È un'eridità importante che i miei predecessori hanno portato avanti con tanta dedizione e tanto impegno e io ho intenzione di fare ovviamente lo stesso. Enrico Scandone, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, ha assicurato da subito un lavoro in continuità per una città che ha definito bellissima ma impegnativa. Nato a Torino ma con origini campane, Scandone si è insediato lo scorso 2 agosto e arriva da Palermo dove ha ricoperto diversi incarichi ed ha iniziato la sua carriera nell'arma in Piemonte. A Napoli il nuovo comandante avrà circa 3600 uomini al suo comando. A fronte di una ricchezza e di vita culturale, di storia, ci sono anche tanti problemi e noi dobbiamo cercare di garantire la nostra presenza e la nostra vicinanza per cercare di alleviare o intervenire dove con la nostra presenza o con la nostra azione possiamo dare maggiore sicurezza ai cittadini. Quindi in continuità con quello che è stato fatto fino ad oggi, cercare di rendere ancora meglio e migliore il nostro impegno. Un impegno che farà della prevenzione il primo obiettivo anche nell'assicurare il rispetto delle norme anti-Covid. È chiaro che come nel periodo precedente a questo l'arma è stata impegnata nel controllo delle norme con necessario equilibrio e il giusto rigore. Continueremo a farlo in aderenza a quelle che saranno le disposizioni. E dunque dal neocomandante un invito alla responsabilità da parte di tutti. Se ognuno di noi riesce a rendersi conto che con piccole norme di autotutela rispetta agli altri e rispetta a se stesso, questa credo sia la chiave di volta.